Un imprenditore di Turi è stato arrestato per caporalato dai carabinieri di Brindisi. Si tratta di Vincenzo Pernice, 51 anni originario di Torre del Greco e amministratore unico della omonima società ortofrutticola. L'arresto è stato compiuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Brindisi. L'accusa è di concorso in intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravati. Il provvedimento scaturisce dagli ulteriori approfondimenti investigativi seguiti all'operazione dello scorso 19 giugno, quando nel Brindisino a Villa Castelli furono arrestati quattro presunti caporali. Secondo gli inquirenti, vi era consapevolezza da parte del datore di lavoro del cosiddetto ricatto occupazionale, a cui erano sottoposti i braccianti agricoli, per lo più donne utilizzati quali lavoratori alle proprie dipendenze. Nel frattempo, proprio per contrastare il caporalato, si è conclusa questa mattina l'operazione Freedom, sviluppatasi in tutto il Mezzogiorno d'Italia da Latina a Ragusa, passando per la Puglia, ad opera della Polizia di Stato. Sul territorio pugliese è stata impegnata la squadra mobile di Foggia, con il coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine. Nel corso dei servizi di controllo sono state identificate 235 persone, tradatori di lavoro e dipendenti, e controllate ben 26 aziende, con l'obiettivo di contrastare in particolare lo sfruttamento di migranti irregolari, costretti per pochi euro a lavorare con orari pesantissimi e in condizioni anche igieniche disumane, senza alcun giorno di riposo o altro diritto garantito. In particolare in provincia di Foggia, con l'ausilio dell'ispettorato del lavoro, è stato anche notificato un provvedimento di sospensione dell'attività agricola per inosservanza delle normative sul lavoro. I lavoratori sfruttati, provenienti soprattutto da Nigeria e Romania, hanno raccontato di aver raggiunto l'Italia alla ricerca di migliori condizioni di vita, trovandosi però a lavorare dalle 6 del mattino fino alle 19 di sera e percependo un compenso di 25 euro giornalieri, appena sufficienti per comprare da mangiare e acquistare qualche vestito. Molti di loro hanno riferito come il caldo insopportabile delle serre provoca loro un costante mal di testa ed un perenne stato di confusione, di cui non si lamentano per la continua minaccia di licenziamento.